Schianto aereo in Nepal, nessun è sopravvissuto. 18 persone, compresi i membri dell'equipaggio, erano a bordo del velivolo, scomparso dai radar da domenica e ritrovato in pezzi nella giungla di Kidim, zona ardua da raggiungere per gli ericotteri del soccorso. A bordo dell'aereo c'era un passeggero danese e tutti gli altri erano nepalesi.